Il direttore generale ci ha chiaramente informato che essendo ormai a metà anno e considerato che i meccanismi temporali di gestione dell'attività televisiva non consentono margini elevati di recupero o di manovra sul piano dei costi nel breve periodo, l'unica soluzione percorribile per fronteggiare la riduzione di questi 150 milioni di euro degli introiti da canone senza incorrere nelle previsioni dell'articolo 2446 del Codice Civile sia quella di cedere una quota di minoranza di Raweia. Vorrei solo ricordarvi che il Consiglio è stato messo a conoscenza della potenziale perdita di 162 milioni in modo ufficiale nella riunione del Consiglio del 28 di maggio, quindi da allora noi come consiglieri siamo responsabili perché sappiamo già oggi per allora che a settembre ci sarà un problema di non rispetto che scattano le previsioni del 2446. Quindi noi dobbiamo adottare tutte le azioni necessarie per evitare che la riduzione si verifichi. In tal senso quindi il Consiglio ha delegato il direttore generale subito e successivamente anche la sottoscritta ad avviare le azioni propedeutiche alla operazione di cessione di Raweia riservandosi di decidere in ordine alla stessa quando si conosceranno compiutamente le condizioni dell'accessione. Dalle informazioni rese dal direttore generale al Consiglio è anche emerso che si rende necessario rivedere il piano industriale in quanto le disposizioni contenute nell'attuale configurazione, che è quella che è in discussione, ho letto poi che ci sono degli emendamenti, rendono il piano non più sostenibile. Anche in questo caso il Consiglio ha dato mandato al direttore generale di provvedere in tal senso. Abbiamo anche preso atto che è comunque intendimento della dirigenza non intervenire sugli investimenti in tecnologia e in cultura. Mi sento di dire a nome di tutti i consiglieri che noi siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti del Parlamento, dell'azionista, dell'azienda, dei dipendenti e di tutti gli stakeholders e con tale pieno senso di responsabilità intendiamo operare. Osservo che per un'efficace ed efficiente ridefinizione del piano industriale sarebbe molto utile conoscere dal Parlamento e dall'azionista, che sono i nostri referenti diretti, qual è il modello di servizio pubblico cui si vuol tendere e il perimetro dello stesso. Perché, per quanto ovvio, senza indicazioni, la probabilità di declinare un percorso non coerente con gli orientamenti di Parlamento e dell'azionista è elevata e con conseguente perdita di risorse e di tempo.